Le due tecniche di comunicazione utilizzate da Vittorio Sgarbi per annunciare le sue dimissioni. Io per evitare il conflitto di interesse che sarebbe nella stessa conferenza che sto facendo, ebbene vorrei annunciare qua le mie dimissioni da Sottosegretario di Stato alla Cultura. No! Ancora una volta la tecnica del framing, che consiste nell'isolare porzioni di realtà per far vedere gli aspetti che sono più funzionali al nostro obiettivo comunicativo. In questo caso qual è l'argomento di Vittorio Sgarbi? Mi dimetto perché le mie conferenze sono incompatibili con il ruolo di Sottosegretario. Bene, questa è una porzione isolata di realtà che lui racconta, eppure c'è tutta l'altra porzione di realtà, cioè le inchieste relative ai quadri, che sono tuttora in corso e che sono state oggetto dell'inchiesta di report. Che cosa succede quindi? Il framing gli permette di isolare la porzione di realtà che gli è più congeniale e di innescare un'ulteriore tecnica comunicativa. Argumentum ad misericordiam. In tutto il passaggio di Vittorio Sgarbi c'è un aspetto importante, è il compatimento. Anziché basarmi sul ragionamento logico, puramente logico, faccio appello alla compassione. Una norma mi impedisce di poter continuare a fare quello che vorrei fare. Fa appello al pathos aristotelico, cioè all'attivazione emotiva delle persone e del pubblico che non a caso appaiono molto dispiaciute dalle dimensioni di Vittorio Sgarbi.